Il Presidente dell'Ufficio Centrale, tenuto presente in disposta dell'articolo 62,4 del decreto legislativo del 18 agosto 1267, in modo a quale il proclamato eletto sindaco accetta che il candidato alla valetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accetta che il candidato di oggi uccesso a Brasietto ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè numero 6282 voti validi, quindi alle ore 18.05 del 6 giugno 2013, proclamato eletto della carica di sindaco del comune di Comunevano, il Signor Vincenzo Brasietto. Grazie. Volevo, c'ho solo due parole, vorrei ancora una volta togliere la professione per ringraziare la mia famiglia, vorrei ringraziare tutti i miei amici, insomma tutta la coalizione, tutti quelli che mi sono stati vicini in questa avventura che è finita la campagna elettorale, ora inizia la vera avventura, insomma quella di amministrare, di amministrare Comunevano. voglio ringraziare tutti i cittadini per la fiducia che mi è stata concessa, io come tutti voi sapete considero la politica un impegno e vivo con un grande senso di responsabilità, mio obiettivo è quello di consegnare a chi verrà una città migliore rispetto a quella che viviamo, viviamo grosse difficoltà economiche, condizioni sociali disagiate, un pensiero va sicuramente a tutti i cittadini che non troppo vivano in queste condizioni, io mi auguro che ci sia, come dite, che cresca quel senso anche di solidarietà a chi, verso chi ne ha bisogno e da parte mia ci sarà sicuramente un'attenzione maggiore nei loro confronti. Il mio obiettivo è anche quello di, come dire, di un'inversione di tendenza nei confronti della politica, di fare di attestare fiducia ai cittadini nei confronti di chi sta qui, questo non è il palazzo del potere, ma è un palazzo dove devono essere svolti e devono essere erogati le servizie a favore dei cittadini e questo è l'impegno che io mi prendo insieme a tutta la coalizione. Abbiamo parlato tanto di partecipazione, abbiamo parlato tanto di cambiamento, io la dico come un momento storico, è un momento difficile ma è un momento dove bisogna ognuno poi assumersi le proprie responsabilità. Partecipazione e responsabilità per me saranno, diciamo, in verbo per questi anni che ci auguriamo, come dire, ci siamo avanti. Io vi voglio ringraziare e, come dire, vi ho finito di qua. Auguri! Grazie! 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 Grazie!